Leitmotiv, che io continuo sempre a sottolineare, che purtroppo sono una specie di cavaliere solitario in missione, da questo punto di vista ho una voce chiamata nel deserto, chiamatela come volete, che uno quando va nell'NBA si rovina. Io ho una grandissima stima di Datome, che secondo me è un fortissimo giocatore, sicuramente fra i migliori d'Europa, Gallinari lo era fino a quando ha giocato in Europa, secondo me lui l'ultimo anno a Milano ha fatto cose veramente straordinarie perché era anche fra l'altro molto giovane all'epoca. Poi il Leitmotiv, che io continuo sempre a sottolineare, che purtroppo sono una specie di cavaliere solitario in missione, da questo punto di vista ho una voce chiamata nel deserto, chiamatela come volete, che uno quando va nell'NBA si rovina. Gallinari ha cominciato lì a giocare secondo lo stile americano e soprattutto secondo me in quest'ultima sua reincarnazione si è presentato come un giocatore supponente. La cosa mi dà un fastidio incredibile. Cioè il fatto stesso che nella prima amichevole precampionato a uno che fra l'altro non gli aveva fatto niente, semplicemente è come dire un po' imbranato, si è mosso, gli ha dato un colpo assolutamente senza volerlo, si si è accanito contro lui, lui gli abbia dato un pugno, si si è spaccato la mano a lui. E mi dispiace dirlo, ben lì sta, perché ha fatto veramente, scusate ma a dire si dice una monata colossale. E a questo punto non so quanto sarebbe stato utile giocando con questo tipo di approccio. Però lui è un giocatore che di paracanestro sa perché ce l'ha nel sangue. Tu un giocatore lo vedi quando è in campo, capisce cosa deve fare senza che l'allenatore debba dirlo. Mi dispiace agli altri giocatori italiani, questa dote secondo me non l'hanno nessuno.